La prudenza nella spiritualità della Bibbia consiste nel dominio di sé, nel conservare insieme al dominio di sé la speranza viva, nel realizzare la stabilità della fede. Ma in pratica in che cosa consiste la prudenza? Quando tu porti, guidi la macchina, sai cos'è la prudenza. Quando tu guidi la macchina della tua spiritualità, in che cosa consiste la prudenza? Consiste in questo, attenzione alla volontà di Dio. Nell'ottica della vita di ogni giorno, nell'ottica delle azioni che devi compiere, è il riferimento alle virtù cristiane. Quali sono le virtù cristiane? La prima virtù è l'umiltà. Ne abbiamo un grande bisogno di imparare ad essere umili, perché la vita ci ha portato ad essere orgogliosi, prepotenti e di voler primeggiare dovunque ci troviamo. Ma cos'è l'umiltà, praticamente? L'umiltà consiste in questo. Tu sei convinto che senza l'aiuto di Dio, senza la grazia di Dio, senza la parola di Dio, non concluderai nulla per la tua vita spirituale e per il tuo rapporto con Dio. C'è poi un'altra virtù, la fede. La fede consiste in questo. Tu hai fede nel medico se prendi le medicine che lui ti dà. Tu hai fede in Gesù se metti in pratica la sua parola. La sua parola è semplice, però in quella semplicità ci sono dei principi fondamentali della vita cristiana e anche della vita di santità. C'è poi un'altra realtà, la speranza e la carità. La speranza. Noi siamo cristiani, siamo stati battezzati e ci impegniamo a mettere in pratica la parola di Dio per poter realizzare in noi quell'opera di santificazione che lo Spirito Santo compie in tutti coloro che credono in Cristo e la speranza di perseverare fino alla fine. E poi, il dominio di sé consiste in una maniera particolare nella carità, nell'amore al prossimo. bisogna essere prudenti nell'amore al prossimo perché l'amore al prossimo nello spirito del cristianesimo non consiste nell'affetto che deve andare ad abbracciare, a baciare questo o quell'altro. L'amore al prossimo consiste nel realizzare un rapporto secondo i principi della vita cristiana e quindi aiutarsi a vicenda sostenersi a vicenda specialmente quando ci sono le difficoltà quando ci sono le tentazioni e qui subentrano nella carità tanti momenti nessuno può bastare a se stesso nella vita cristiana tutti noi abbiamo bisogno degli altri una volta bisogno dei sacerdoti un'altra volta bisogno quante volte mi è capitato ma padre mi trovo in questa difficoltà mi raccomando pregate per me pregate per mio figlio quindi c'è questa tendenza a realizzare la carità qual è la disposizione che tu devi avere nel tuo spirito per poter realizzare la prudenza per poter essere prudente tu sarai prudente se sei disposto a rinunziare a tutto quello che ti allontana da Dio tu sei prudente se hai la pazienza la pazienza di essere se hai la pazienza in modo tale che questa pazienza deve essere grande grande davvero perché in tutto c'è sempre qualcosa che non va sia dentro di noi che siamo spinti molte volte da certe tendenze da certe convinzioni da certe situazioni che non sono che non baciano con la vita cristiana e con il rapporto con Dio e quindi la pazienza a modificare a cambiare a rimettersi sulla strada giusta la pazienza anche a realizzare un rapporto fraterno secondo la spiritualità del Vangelo che considera il Dio padre di tutti e molte volte non è facile anzi quasi sempre ci sono molte difficoltà specialmente con certi individui che sono che sono difficili da trattare poi c'è un altro aspetto che devi avere devi amare il silenzio del raccoglimento del raccoglimento interiore devi imparare a riflettere a riflettere sulla parola di Dio su quello che Gesù ha fatto su quello che Gesù ha detto devi sistematicamente avere la lettura della Bibbia specialmente dei salmi i salmi sono quasi tutti un dialogo con Dio e quindi quello è necessario che tu lega i santi i salmi con un raccoglimento intimo interiore e poi la preghiera se tu non hai tempo di pregare allora io ti dico non hai tempo per il Dio e Dio non ha tempo per te non è possibile che tu trovi il tempo per tutte le cose che devi fare poi non trovi tempo per la preghiera la preghiera che consiste innanzitutto in una preghiera universale secondo l'insegnamento di Gesù quando pregate pregate così Padre nostro quindi anche se tu preghi da solo preghi Padre nostro e allora ti metti in contatto con quello che attorno a te o lontano da te vive in difficoltà problemi guerre divisioni di realizzare la preghiera come un chiedere continuamente a Dio che interventa per mettere in ordine tante cose sbagliate che gli uomini e le donne fanno e poi insieme con la pazienza c'è la mansuetudine cos'è la mansuetudine devi avere la calma in tutte le difficoltà in tutte le avversità in tutte le cose che non vanno secondo quello che è giusto specialmente quando vengono imposte dalla prepotenza di alcune persone dei grandi sacrifici questa è la mansuetudine e poi la dolcezza il tuo parlare deve essere semplice e poi specialmente quando c'è da mettere la sottolineatura sulle cose sbagliate o addirittura sui peccati non bisogna farlo con durezza bisogna farlo con dolcezza in modo che la persona capisca quando ha capito hai fatto il tuo dovere perché è sufficiente che capisce poi lui deve scegliere lei deve scegliere e infine oggi ci vuole anche il coraggio per essere cristiani perché c'è tutta una mentalità che ha deviato l'umanità dal cristianessimo nel modo più radicale il coraggio di pregare e anche il coraggio di avere fede in questo senso che in questa situazione in cui ci troviamo c'è la tendenza a pensare che Dio sia allontanato da noi o meglio che noi ci siamo allontanati da Dio che noi ci siamo allontanati da Dio è vero ma dobbiamo avere il coraggio di non dimenticarci mai che Dio non sia allontanato mai da noi Gesù Cristo ha detto io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e poi bisogna che per realizzare la propria fede bisogna avere una certa fermezza nell'affrontare le difficoltà nell'affrontare i disagi che vengono appunto dall'essere credenti nel mondo di oggi quindi la prudenza è luce che ti fa vedere la volontà di Dio deve essere animata dall'amore che Dio ti dona quest'amore ti fa compiere le azioni buone nel modo giusto secondo la volontà di Dio la prudenza è la verità che viene dalla carità la verità senza l'amore di Dio è una semplice cultura una cultura umana uno studio la prudenza diventa l'anima dell'amore e la forza del dolore la preghiera orientata la preghiera orienta la prudenza verso la volontà di Dio e questo avviene specialmente quando l'odi qualcuno allora la prudenza ti fa dire le parole giuste l'odi secondo la giustizia la correzione è animata dall'amore la prudenza dona la forza di Dio alla dolcezza umana è una virtù cardinale mette in movimento tutte le altre virtù la sua perfezione è la perfezione di tutte le altre virtù completa la perfezione e la prudenza completa la perfezione delle virtù cristiane fa esercitare le virtù in modo giusto esse diventano efficaci e infine dona la costanza di saper perseverare in tutte le virtù cristiane amén